Buongiorno, non ci sentiamo da un po' di tempo. È passato ormai quasi l'intero mese di agosto. Abbiamo avuto a Tivoli, per quel che riguarda la pandemia, un periodo di scarsa diffusione del virus. Siamo stati per oltre 20 giorni senza nessun nuovo caso di contagio. Poi, d'improvviso, cinque giorni fa, tra venerdì e sabato, in coincidenza evidentemente con il rientro dalle vacanze, il numero dei casi ha ripreso a salire anche all'interno del nostro territorio. Si tratta nella quasi totalità dei casi, sono otto questi casi, di persone che provengono dall'estero, che rientrano dalle vacanze. Si tratta per la maggior parte di giovani, di un'età media compresa fra i 30 e i 35 anni. Sono tutte queste persone a domicilio, quindi non ci sono casi gravi di contagio. Questo, soprattutto in vista della ripresa piena delle attività di noi tutti, noi non abbiamo mai naturalmente smesso di lavorare. E stiamo lavorando, lo abbiamo fatto senza alcuna interruzione, soprattutto per far sì che il rientro a scuola trovi da parte dei bimbi, delle bimbe, dei ragazzi, delle ragazze, ambienti rispondenti alle direttive del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione. Quindi, nelle settimane passate, i vi comprese quelle attorno a Ferragosto e a Cavallo di Ferragosto, abbiamo lavorato senza interruzione soprattutto a questo. Quello che vediamo tutti i giorni dalle immagini che scorrono dei telegiornali ci porta a dover riprendere gli appelli con i quali ci eravamo lasciati alla fine del mese di luglio, rivolti soprattutto ai giovani. Quindi, fate molta attenzione nei vostri comportamenti quotidiani, questo nel vostro interesse e nell'interesse dei vostri familiari. Devo anche aggiungere a questo proposito che recenti disposizioni governative impongono di assumere in alcune ore della giornata e in alcuni luoghi particolari, in modo particolare la sera, e nei luoghi passibili di assembramento, in luoghi che conosciamo come luoghi della movida della città, ci impongono di assumere comportamenti assolutamente rispettosi delle norme. Quindi distanziamento, dispositivi di protezione orale e quindi mascherine. Proprio in base all'ordinanza governativa e alla successiva indicazione della prefettura, nella giornata di oggi ci sarà una ordinanza a firma del sindaco che chiederà alle forze dell'ordine, polizia locale, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, di intensificare i controlli in alcune aree che verranno specificamente indicate. In quelle aree, a partire dalle 18 di pomeriggio e fino alle 6 di mattina, bisognerà inevitabilmente, obbligatoriamente, proteggere la propria bocca con dispositivi, le mascherine. Quindi io vi prego di fare molta attenzione a queste raccomandazioni ed a questi inviti. Ma questo, lo ripeto, è soprattutto nel vostro interesse. Torniamo un attimo sui numeri. I numeri delle persone attualmente positive sul territorio comunale di Tivoli sono 8. Tutte, ripeto, tranne forse che in un caso da mettere in relazione a rientri dai luoghi della vacanza. Spero che con comportamenti adeguati questo ci possa portare a mantenere questi numeri di contagi entro livelli accettabili. Per questo è indispensabile assumere quei comportamenti che quotidianamente sentite raccomandarvi in televisione e che anche da parte nostra, anche da parte del Comune, noi vi raccomanderemo. Vi prego quindi di guardare con molta attenzione a questi inviti e a questi appelli e di guardare con molta attenzione soprattutto ai vostri comportamenti. Grazie.